Assonometria cavaliera Metodo generale Partendo dalle proiezioni ortogonali del solido, immagina di ruotare l'asse Y di 135 gradi rispetto all'asse Z, mentre l'asse X resta in posizione invariata. Il triedro di riferimento risulta così deformato. Aiutandoti con le coordinate dei punti significativi, riporta sui piani le proiezioni ortogonali dell'oggetto appoggiato sul piano orizzontale, con linee di riferimento parallele agli assi. Le dimensioni sull'asse Z e sull'asse X non sono soggette al rapporto di riduzione, mentre si dimezzano sull'asse Y. Dalle immagini dei vertici appena disegnate, traccia i raggi proiettanti, che incrociandosi individuano i rispettivi vertici del solido. Gradualmente appare la forma dell'oggetto in assonometria cavaliera.